Roberto Zanotto della FIOM, grande lottatore a Sesto San Giovanni, i latini dicevano corrupsio optimi maxima, cioè quello che era il meglio se va a finire male diventa il peggio. Cosa è successo a Sesto San Giovanni? A Sesto San Giovanni c'è stata una grande delusione nei confronti di chi gestiva la politica precedentemente che ha portato a un'astensione dal prendere posizione politica, o perlomeno posizione partitica, per cui non si è andato a votare. Il centro-sinistra ha perso molti voti per l'astensione, la destra mantiene gli stessi identici voti negli ultimi vent'anni e questi pochi voti gli consentono di governare Sesto. Quindi praticamente tu dici che non è stata una vittoria della destra, è stata una sconfetta della sinistra, clamorosa. È stato un ritirarsi delle persone che sostenevano la sinistra. Cosa bisognerebbe fare, Roberto? Bisognerebbe innanzitutto dire. Dire che significa prendere posizioni, significa farsi carico, significa essere chiari, significa non lasciare correre le cose che vengono dette dalla destra. Vuol dire intervenire su quelli che sono problemi grossi a Sesto, che sono comunque problemi difficili anche da affrontare, ma su cui bisogna arrivare. Solo dicendo e continuando a ridire e prendendo una posizione pubblica che sia visibile su questo si potrebbe tentare di ottenere un terreno di fiducia. Bisognerebbe avere un grande lavoro fatto insieme alle associazioni, caricare le associazioni di attività. Con le difficoltà che questo comporta perché le associazioni sono comunque composte da persone che più o meno sono le stesse da 20-30 anni a questa parte, per cui le difficoltà legate all'età, legate ai muscoli e ai nervi ormai non sono mai. Un'ultima domanda. Vi sembra che a Sesto San Giovanni avete toccato il fondo e state per risalire o manca ancora? Io penso che non esiste il fondo in politica, se no non si spiegherebbe perché Israele può permettersi di fare quello che fa nella siscia di Gaza, per cui nella politica non c'è fondo. Si risale a un certo punto, indipendentemente da... E non siamo ancora a questo punto o ci siamo vicini? Io credo che il comune di Sesto, come tutti i comuni di destra, si caratterizza per quelle caratteristiche che è la destra, cioè incompetenza e prepotenza, per cui c'è fine all'incompetenza e alla prepotenza. Non so se siamo vicini, io spero che però bisogna in qualunque modo semplice, tentare di iniziare a risalire e pensare che si possa risalire. Grazie. Avvocato Montaldo, siamo a Sesto ancora una volta, i giorni della merla e qui si rischia un altro sfratto. La situazione è la seguente. Nel 2013-2014, epoca di recessione economica con migliaia di licenziamenti e migliaia di sfratti, il comune di Sesto San Giovanni aveva centinaia di famiglie sotto sfratto. L'unione inquilini con un centinaio di famiglie entrò in consiglio comunale nel 2013, se ricordo bene, chiedendo una soluzione per gli sfratti. Siccome case popolari non c'erano, il sindacato propose che il comune prendesse case private in affitto e nel momento in cui una famiglia veniva sfrattata e aveva diritto a una casa popolare, il comune concedeva in sublocazione questi alloggi privati. Le famiglie che hanno avuto questi alloggi privati in sublocazione pagano il canone sociale e pagano integralmente le spese. Il comune mette una differenza di 200-300 euro. Quando nel 2017 la destra vince le elezioni, uno dei primi atti politico-amministrativi è stato inviare alle circa 80 famiglie che avevano avuto questi alloggi privati dei provvedimenti amministrativi in cui dicevano signori il contratto è scaduto, entro dieci giorni andatevi, altrimenti veniamo con i vigili e vi buttiamo fuori. Siccome erano provvedimenti illegittimi il mio studio ha presentato ricorso al TAR e il TAR annullò i provvedimenti amministrativi del comune. Quindi il comune poi andò in tribunale, al tribunale di Monza, chiese e ottenne la convalida di sfratti per finita locazione perché sono famiglie che lavorano, sono quasi tutti cittadini stranieri, soggiornanti di lungo periodo che hanno un lavoro, quindi pagano, ma per scelta del comune sono sotto sfratto. La situazione al momento è che abbiamo famiglie che continuano a pagare il canone, che hanno la convalida di sfratti per finita locazione e abbiamo un comune da atti giudiziari che sfratta i suoi bambini, che sfratta i suoi minori. In una città che ha il poco onorevole record, credo, di condanne giudiziarie per condotta discriminatoria, perché poi queste famiglie che sono in sfratti locazione sono per lo più famiglie non italiane che sono state discriminate negli anni 18-19 per la questione dei certificati esteri che il comune chiedeva per aver assegnate le case popolari. Quindi abbiamo famiglie che sono state discriminate per le quali il comune ha preso quattro condanne giudiziarie, due dal tribunale di Monza, che ha dovuto pagare i risarcimenti, che poi ha sfrattato per finita locazione e per concludere il quadro di indirizzo politico di questa giunta, gran parte di queste famiglie negli anni passati hanno avuto il dramma di vedersi cancellate le residenze e poi con provvedimenti prefettizi sono state ripristinate. A questa famiglia forse oggi andrà meglio perché le camionette non ci sono, un mese fa circa però non è andata così. Settimana scorsa una di queste famiglie in sublocazione è stata sfrattata, parliamo di 5 minori tra cui un neonato, approfittando del nuovo ufficiale giudiziario che non lascia i cedolini di rinvio, la famiglia non aveva assegnato il giorno in cui usceva l'ufficiale e si è presentato con il fabbro su richiesta del comune e sono stati messi in strada a 5 minori. Ricordiamo che pende all'alto commissario per i diritti umani dell'ONU un ricorso per un'altra famiglia e il comune gli rinviò lo sfratto per non fare la brutta figura perché è violazione dei diritti umani mettere in strada dei minori senza una soluzione. Cosa succede a queste famiglie se lo sfratto avviene? A queste famiglie succede che finiscono in strada senza nessuna protezione sociale da parte dell'amministrazione comunale. Più di un anno fa la famiglia del signor Mohamed è stata sfrattata da una famiglia in sublocazione e il comune non ha offerto né una comunità né un albergo né un residence né nulla in palese violazione della convenzione ONU sui diritti del fanciullo e di ogni regola anche di umanità e di buon senso. Abbiamo un'amministrazione che a differenza di altri comuni anche di destra non ha approntato alcuna misura emergenziale per non lasciare i minori in strada. Quindi se vengono sfrattati i minori rimangono in strada senza nessuna protezione sociale. Oggi fa un gran freddo ma il presidio c'è. Sono importanti i presidi? I presidi sono importanti perché pur di fronte a un quadro legale chiaro quindi con un comune che ha subito sei condanne per condotto discriminatorio, un comune che è stato sanzionato dalla prefettura per le legittime cancellazioni delle residenze, un comune che è stato condannato di altar perché provava a sfrattare queste famiglie in subloccazione con dei provvedimenti senza andare in tribunale. Non c'è nulla più da fare perché manca la politica o meglio la politica c'è ed è quella di espellere dalla città le famiglie di lavoratori a basso reddito. È una linea diciamo del liberismo corrente che poggia sulla speculazione finanziaria che ti porta ad avere qua a Sesto come a Milano monolocale a 800 euro più spese in qualcosa che non riguarda solo le famiglie a basso reddito ma anche la classe media. Abbiamo qua a Sesto professori che hanno vinto il concorso che vengono dal sud e non trovano un monolocale se non a 1000 euro, cioè quanto è uno stipendio. Quindi i presidi sono indispensabili perché altrimenti l'ufficiale arriva con il favro con il dipendente comunale e mette in strada i bambini con buona pace del buon senso, dell'umanità e del diritto. Un'ultima domanda, ma il Comune non paga nulla per queste condanne? Il Comune ha pagato le spese processuali e i risarcimenti danni alle famiglie che sono state discriminate. Hanno dovuto riunire il Consiglio Comunale se non sbaglio due anni fa proprio per aggiungere a bilancio i costi delle politiche discriminatorie. Grazie Avvocato. Grazie a voi. No, ma siccome porti via i soldi...